Buonasera, siamo qui diretti con Di Giovanni, come è stato il tuo approccio con la giornata, l'affluenza? L'affluenza sembra che sia stata buona, adesso non ho ancora i dati ufficiali ma sembra che sia stata buona, più alta dell'aspettativa. Voi cosa vi aspettate? Spero che sia una vittoria per la nostra lista, faccio parte della lista a Covilla, spero che a Covilla sia il nuovo centro di parte dell'alpina, io metto come suo colloquio. Va benissimo, allora speriamo bene, vi auguriamo auguri. Va bene? Ok, l'affluenza qui alla scuola elementare è tanta come potete vedere, situazione di stallo, tutti che aspettano.